l'opera U.A.V. in attesa di ordini U.A.V. di disturbo pronto 4-1 in sorvono 4 misure attive Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo U.A.V. 50% di autonomia Alci U.A.V. resta metà del battaglio Versaglio a terra Granata, via con D Minaccia risolta Preso Attenzione U.A.V. nemico in arrivo Devolito Tecnico a terra Firebreak a terra Granata in arrivo U.A.V. Preso Nemico a terra U.A.V. in attesa di ordini U.A.V. di disturbo in attesa di ordini Granata in arrivo Tecnico a terra Perimetro stabilito Quota 10.000 piedi Autonomia Autonomia C.U.A.V. al 50% Energia U.A.V. al 50% Nemico eliminato L'U.A.V. di disturbo deve rientrare alla base Grazie U.A.V. in allontanamento Grazie U.A.V. di disturbo deve rientrare alla base SILV-e di disturbo deve rientrare alla base U.A.V. di disturbo deve rientrare alla base Cyborg terminato. Cyborg terminato. Hater pronto. Bersaglio a terra. Granata! Morto. Prototipo distrutto. UAV di disturbo in arrivo. UAV alleato in arrivo. Confermo uccisione. UAV di disturbo nemico in sottolo. Rader di Tassara riuscendo. Avanti così. UAV ostile individuato. È morto. Nel'altro tirate in sottosia acquisiranno l'obiettivo. All'UAV resta a metà serbatoio. All'UAV resta a metà serbatoio. Nemico a terra. Chiaramente inferiore. ... ... ... Questi sono i Black Ops che dico io Massime prestazioni, massimo successo